Musica Dopo diversi anni che ho un po' messo da parte questa passione dell'arte ho voluto riprenderla anche perché il vecchio amore ritorna sempre non vi affiora sempre io con questa mostra ho voluto un po' giocare con i colori che come sapete i colori un po' simboleggiano i sentimenti mettendo appunto in contrasto i colori caldi e i colori freddi come sapete i colori caldi esprimono appunto calore, amore, passione invece quelli freddi completamente opposti L'immagine che ho voluto un po' richiamare sono linee e cerchi che si ripetono in tutti i quadri e ho voluto appunto lanciare un messaggio dal titolo Oltre, al di là dietro una porta, dietro una finestra ci sono immagini che ognuno di noi e ognuno di voi può vedere che può dire quello che prova è un po' richiamare Grazie a tutti.